Come no? Sì. Ma lei è un elettore in Italia di? P.D. Quindi, Renzi? Ahimè. Niente Renzi in Europa, non la convince? Ma figuriamoci. Piccolo Berlusconi, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Questo maggio votiamo per la nostra vita. Votiamo per cambiare l'Europa. Votiamo per l'altra Europa. Grazie. Venerdì 23 maggio, grande festa di chiusura. Ma chiusura di cosa? Chiusura dell'Europa delle banche, della finanza, del razzismo, dell'austerità e delle diseguaglianze. Ok le chiusure, ma che cosa si ha? A un'altra Europa, del lavoro, della giustizia sociale, della pace e delle persone. Parole e musica con Madanzai Jets Band, Babuzzi Orchestra, Fletzmer con il nostro saggio dei colli di Ovadia e il greco. Zorba? No, l'altro, quello che ha già vinto ad Atene. Venerdì 23 maggio, dalle 19 fino a tarda sera, al Parco Ravizza di Milano.